Il tuo popolo, bella signora, che pieghi giubilo oggi di onora. Che pieghi giubilo oggi di onora, anche io, festevole, corro ai tuoi piedi. O Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel primo mistero del dolore, contempliamo Gesù che agonizza nel Getsemani. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani. Cadde faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricordiamo a voi. Nel secondo mistero del dolore, contempliamo Gesù che è flagellato alla colonna. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro, io non trovo in lui colpa alcuna. Volete dunque che io li metta in libertà per voi, re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo, non costui ma barabba. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieni, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua Divina Misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù che è coronato di spine. E i soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porcora. E gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porcora. E Pilato disse loro, ecco l'uomo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel quarto mistero del dolore, contempliamo Gesù che porta la croce. Pilato disse ai didei, ecco il vostro re. Ma quelli gridarono, via, via, crocifiggilo. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli portando la croce si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgotha, dove lo crocifissero. E con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra. E Gesù nel mezzo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel quinto mistero del dolore, contempliamo Gesù che muore in croce. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane in quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. O Maria, concepita senza peccata, pregate per noi che ricorriamo a voi. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo, Esu, i figli di Emo. A te sospiriamo, ongementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Prendiamo, o Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che abbiamo meditato i misteri nel Santo Rosario della Beata Vergine Maria, fa che imitiamo ciò che essi contengono e raggiungiamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E l'ora che pia la spilla fede, le note cindian dell'Ave del Ciel. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.